Ma salve e benvenuti nel nostro secondo canale, sono sempre Ciccioche per 89, alcuna matata. Signori, siamo tornati su Clash of Clans, se vi siete iscritti al canale, avete lasciato campanile, avete attivato tutto quello che cazzo che vi pare? Va bene, l'importante è che state belli confidenti. Signori, allora, codice credore Ciccioche per 89 se mi volete supportare su qualsiasi gioco Supercell. In questo momento mi si sono sbloccati ben tre costruttori, avremo parecchie cose da fare. Ancora abbiamo la fabbrica degli incantesimi e il castello del clan che si stanno maxando. Andiamo a prendere la rossa robetta, direi di poter prendere... Ragazzi, io vorrei prenderla, ok, scusatemi, un po' scemotto, e andiamo a prendere il nero. Allora, qui che c'è? Ok, come al solito abbiamo questa robetta qua che non so assolutamente a che cosa serva. Spero che questi video vi piacciono, tra l'altro mi avete detto di attaccare con i draghi, sono d'accordo con voi. Quindi, qua, quando noi andremo a fare a destra, che non me lo trovo, mannaggia la miseria, mannaggia la miseria... Eh, ma questo qua addestra truppe, allora io vado a togliere tutto l'addestramento. Dopo che abbiamo fatto questi attacchi vado a cercare di capire un attimo come funziona. Sì, prossimo video facciamo un nuovo villaggio. Prossimo video vado a costruire un nuovo villaggio insieme a voi, ovviamente sarà un po' un casino. Uh, ci andiamo a prendere le gemme. Allora, io andrei a potenziare il cannone. Due minuti, non me ne privo. Vado a potenziare questo qua, 15 minuti, non me ne privo. Vado a vedere se effettivamente con i nostri costruttori che... Ok, vado a fare così, vado a fare così, vado a fare le difese. Beh, una bella torre bombardiera. Ma se uno utilizziamolo, ma che ce ne frega? Nuovamente qua, nuovamente difese. E come difese stiamo abbastanza bene. Dobbiamo andare a mettere le trappoline che in questo momento... Ma... ma... scusami. Ma me l'hai detto tu, me l'hai detto. Ma che sei matto? Ah no, me l'ha messa. Me l'ha messa però poi ha detto... Vabbè, più di così non puoi. D'accordo. E andiamo a metterla per il momento qui. E poi da quello che ho visto possiamo mettere un bel po' di mura. In realtà. Quindi io vado a spostare... Questo qui. Vado a... Costruire le nostre mura. Che me le sta costruendo con grande difficoltà. Ma quante... Quante, secondo voi, possiamo costruirne? Aspettate, regà, eh. Annaggia, la miseria. Mamma mia, quante. Allora sì che poi la roba... C'entra tutta. Prima o poi finiranno, secondo voi? Ok. Ok. E queste sono le nostre mura. Che diciamo non è malissimo. Quindi abbiamo ancora un costruttore. Prima che mi sbaglio... Andiamo a prendere il cannone. Dieci minuti. Tre. Ah, e oggi spendo un po'. Va, 45 minuti. 15. Aumentiamolo due ore. Va bene così. Anche se queste... L'ho detto. Tanto qualche gemmetta messa da parte. Ce l'ho. Quindi facciamo così. Dai, ho visto che lasciate un sacco di like. Via. A posto. Vai, 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 vai. Chi se ne frega, dai. Meglio così. Meglio così. Sentite, andiamo a cercare qualcuno... Da attaccare. Qui non... Non va bene. Ci sembra... Ah... Ricompense. Ottengo. Che cosa ho ottenuto? Ma chi lo sa. Andiamo ad attaccare. Vediamo se troviamo una FK. No. Vabbè. Sinceramente... Questo villaggio... Non lo posso. Cioè, non me ne posso privare. Guardate, il bottino non è incredibile. Però... Ce la facciamo. Ce la facciamo. Possiamo comunque... Allora, io c'ho... Ah, è perché c'ho ancora quello vecchio. Però se io mi metto qua... E li lancio qui. C'è del tipo... Se io facessi così e così. Vediamo un po', eh. Vi voglio rendere fieri. E faccio così. Giusto. E poi faccio così. E faccio così. Giusto? Perché così io faccio sì che le mie truppe... Mi vanno tutte quante centrali. Perfetto. Immagino... Ci sia una trappola... In realtà, eh. Immagino ci sia una trappola. Sono abbastanza sicuro. Quindi, una... Puria qua. E io volevo fare di questo. Ma sapete che, secondo me... Mi stanno girando le truppe... In una maniera indecorosa. Io... Ve lo voglio dire. Secondo me... È successo ciò. Eh... Dovete aver pazienza con me, ragazzi. Che io cerco di fare le cose belle. Però... Non è così facile. Potevo giocare molto meglio, effettivamente, parlando. Sicuramente questo ci può stare. Come cura. Qua... Eh, raga. Purtroppo mi hanno girato. Non sono riuscito a mandarle dentro. Guarda lì che bordello, raga. Ah... Non ho giocato bene. Ammettiamolo. Dai, lo ammetto. Lo ammetto. Lo ammetto. Non ho giocato... Cioè... L'intenzione, per carità di Dio, era anche buona. Ma purtroppo non abbiamo giocato come... Dovevamo giocare. Eh... No. Eh... No. Caro ciccio gamer. L'idea c'era. Era anche gradevole. Per carità del signore. Vabbè. Io direi che... Ok. Quindi qualcosetta. Io pensavo di tristellare. Pensavo sinceramente, sinceramente di tristellare. Io non ho capito perché loro... Ah... Può essere capito come... Eh... Non ho ben... Non ho ben capito bene la vita. Cioè... Non l'ho capita. Ah... Posso giocare questa, però. Andiamo a riscattare il secondo, raga. Ah, raga. E secondo voi... Io so come si attacca qui. Secondo me... Mi state sopravvalutando tantissimo. Perché io... Personalmente... Non ho idea... Di come si attacca. Qua. Non ne ho idea. Raga. Non ne ho idea. La sto buttando... No, in cacciara. Di più. Ma davvero non sto scherzando, eh. Non... Non... Non scherzo. Non... Non... Non so veramente di che cosa stiamo parlando. Che truppe siano queste. Non... Non lo so. Non so le abilità che c'hanno. Non ne ho idea. E... Boh... Totalmente a caso, ragazzi. Totalmente, totalmente a caso. Io non so. Ah, quella è la mia regina con la skin. Ah... Ok, queste truppe sono fortissime. O sbaglio? Senti, facciamo così. Vediamo che succede. Non so, sta rimbalzando una cosa incredibile che ha danneggiato tipo 500.000 truppe. Facciamo così. Ma queste rimbalzano completamente con una... Cioè, con una nonchalanza e... Ah, ma questi sono tipo le domatrici da rieti. Regà, come ho fatto? Cioè... Possibile mai che io sia riuscito... A tristellare con grande cattiveria? Ah, che sarebbe un miracolo. Allora, sono fortissime. Non ci prendiamo in giro. Ma comunque sono arrivato pelo pelo, eh. Cioè, senza... Senza ombra di dubbio io sono arrivato pelissimo, pelissimo. Minchia, ho tristellato. Cioè, non volendo, ho fatto un tristellamento incredibile. Bravo. Bravo, ciccio gamer. Bravissimo. E quello? Ce lo si immacchiappate. Quindi ottengo... Non so che cosa ho ottenuto. Forse sono standardi. Vi giuro. Non capisco. Casa... Casa dei che... Tetto della casa del... Ah... Ah... Ho capito. Ok, 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 ok. Addestriamo truppe. Queste sono fortissime loro, eh. Minchia. Sono forti, forti, forti. Poi sicuramente pure i draghi... Ah, quindi Mastino Lavico. Dovrei andare ad addestrare, se non erro. Quindi Mastino Lavico, Mastino Lavico. E poi erano i draghi. Eh, draghi. Tutti... Facciamo... Facciamo full drago, secondo voi? Secondo me ci sta full drago. Ci vogliamo provare? Secondo me sì. E poi che cos'era? Mi sembra che era... Ehm... Velocità. Perché poi io giocavo pure con le mongolfiere. Vabbè, proviamolo. Poi al limite mi direte voi, dai. Poi al limite mi direte voi. Fulmine. Fulmine. Hm. Forse perché mi sono rimasti gli incantesimi in questo momento. Scommettete? Scommettete che mi sono rimasti gli incantesimi? Eh, eccole. Gli incantesimi. Ah, sai che faccio? Facciamo così, guarda, eh. Facciamo così, vi faccio vedere io. Minchia, questo era... No! Dove sono andato mai? Ma era buonissimo. Mortacci sembro lo staff apposta a sto gioco maledetto. Guarda. Mo che non c'ho un cazzo. Guarda che minchia mi è andata a dare. Va. Ma fa un guccolo a mamma, va. Vabbè, mi rubo quello che posso, ragazzi. Mi rubo quello che posso. Ma dai, mo che sto giro lo so arrivato senza niente. Ma guarda che cosa mi ha dato. Ma sto veramente rubicchiando roba, regà, eh. Cerco di fare pure una stella così da non perde. Facciamo così, va. Mamma mia, che gioco. Mo che non c'ero andato con niente. Che poi non è neanche detto che riesco a fare una stella, eh. Non mi ricordo, ma non mi sembra che sia così scontato, sinceramente. Sinceramente parlando. Mi sembra che devo fare il 50%. Facciamo così, schiattamo direttamente lei. Vai, 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 vai. Bene, bene, bene. Eh sì, penso che devo fare il 50%, ma non credo di esserci riuscito. Non credo di... Ma era impossibile fare il 50%. È impossibile, perché mo la torre degli arcieri mi spacca. Vabbè, mi sono rubato un po' di roba, dai. Ah, non ce la posso fare. È impossibile. Va bene. Ma avete visto quanto mi sono preso? Quindi, l'abbiamo fatto perché così, con l'attestramento, gli incantesimi, ipoteticamente, me fanno così. Non è... Non è... Quindi, se io le... Io non ho ancora capito come posso modificare quell'esercito. Sentite. Gemmo e gemmo. Eh, a destra. Ma se io volessi togliere questo... Ah, questo è l'esercito precedente, però. Attenzione. Quindi, se io in questo momento vado ad attaccare con questo esercito qua... Tra l'altro, regà, già sono 11 minuti, io... Madonna, regà, madonna, madonna, madonna. Madonna, madonna, madonna. Qua, qua. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Facciamo così. Facciamo così. E facciamo così. Non lo so, me lo sto veramente inventando. In questo momento, eh. Vediamo un po', ma... No, me la sto inventando. E tra l'altro anche male. Perdonatemi, ma... Veramente me la sto inventata brutta, 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 raga. Perché io mi ricordo che facevo quelle mongolfiere. Ma chi si ricordava, raga? Ma chi si ricordava? Madonna, che brutto attacco che ho fatto. Mamma mia, che roba brutta. No, mi piace molto più quelle mongolfiere. Posso dire la verità? Niente, regà, sto prendendo pizze. Come se non ci fossero domani. Io me lo ricordo. Io mi ricordo un attacco che facevo bellissimo. Ma col... Era mastino lavico, mastino lavico. E poi erano tipo tutte mongolfiere. Ma era un attacco bellissimo. E non mi ricordo se erano due mastini o se erano quattro mastini, sapete? Io non mi ricordo. Non mi ricordo minimamente. Ok. E quindi, ipoteticamente, era questo. Sentite, lo vado a gemmare. No, perché non me ne frega niente, dai. E com'era? Era furia, furia. Era furia, furia. Cura, cura. Boh... Io non mi ricordo minimamente. Rimanente uno, che cosa intendi? Otto di nove. Ah! Uh! Ah! Uno! E uno possiamo fare questo. Raga, sto shoppando veramente tanto. E io devo riprovare un attacco, raga. Io devo riprovare un attacco, perché il gioco me deve fare attacca a serio. No, però voglio trovare qualcosa di carino. Anche è vero che mi avete comunque consigliato di fare le stelle. Raga, non mi trovo altri. Quindi io mi immagino che... Devo fare così. Ma io vi giuro, non mi ricordo. Boh, non lo so. I miei massini mi sembrano così piccoli, vi giuro. Un botto piccoli mi sembrano. Ma proprio tanto, 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 tanto. Facciamo così, facciamo così. Andiamo a curare, andiamo a curare. Boh, raga, io non mi ricordo. Mi dobbiamo andare a vedere qualche video vecchio. Perché sto a prendere pizze. No, ma mi sa che si attaccava. Mi sa che si attaccava. Raga, mi dovete ricordare. Perché mi sa che si attaccava solamente da un lato. E... E i mastini mi sa che erano due. Mi sa che... Eh, raga, non mi ricordo. Portate pazienza. Datemi consiglio, per favore. E dobbiamo sicuramente ripostare i mastini su. Vabbè. Signori, vi voglio bene. Al prossimo appuntamento. Ciao, raga.